Mi disturba il dato del 40% di astenuti o incerti che non vanno a votare, perché è il partito più grande che c'è e rischiano di essere proprio loro a determinare le sorti di questo Paese, senza averne però assunto la responsabilità, neanche quella piccola piccola che spetta ad ognuno di noi. Per cui il mio appello accorato è veramente convincere le persone ad andare a votare, poi votino quello che vogliono, se votano più Europa io sono più contenta di tutta la vita, però intanto non lasciamo che sia il vuoto a decidere il futuro del nostro Paese.